Se hai capelli lunghi, ma non hai una massa sufficiente, puoi utilizzare un extension, noi abbiamo utilizzato quelle di Ayrdô, oggi. Se non la trovi dello stesso colore, crei un contrasto. Come prima cosa, cotonatevi la nuca, in modo tale che la testa resti rotonda, applicate un po' di lacca, vi dividete la parte che avete cotonato e applicate la vostra extension. Le extension hanno delle graffette, le graffette vanno applicate vicino all'attaccatura. Dopodiché lasciate sopra i capelli cotonati, spazzolate verso il basso e create una coda. Possibilmente con un elastico, con un gancio. Lo agganciate. Coprite il vostro gancio con i capelli e una forcina e applicate il vostro cerchetto, possibilmente per l'altro del ciuco. Due minuti e realizzerete un'acconciatura veloce, comoda e simpatica per le vostre feste. Sous-titrage Société Radio-Canada